buongiorno ben ritrovate sul mio canale buon venerdì mattina sono sempre io gabriella briga bijou oggi brevissimo video non ci vediamo dall'ultimo video che ho fatto dell'estrazione per il giochino dell'epifania oggi cosa vi volevo mostrare niente io sapete che faccio cabochon però la mia passione è anche quella di acquistarli mi piacciono in tutte le salse quindi ho fatto un piccolo acquisto da cabochon mania e mi ha acquistati anche da altre creative come monica cabo insomma le che conoscete sicuramente su facebook però sono tutte creative bravissime io stimo tutte quelle che creano con le paste polimeriche ce ne sono di tutti i tipi di tutti i generi ognuno c'ha la come dire una sua particolarità quindi a me piacciono tutte quelli di cabochon mania la colei che li fa è veramente bravissima una persona gentilissima io di solito questi cabochon li acquisto in fiera creativa a napoli da felincanto quest'anno non li ho trovati e quindi a gennaio ho proceduto a fare proceduto ho fatto ecco la prima forse ho fatto questo piccolo ordine queste sono delle goccine sono arrivati insomma dopo un po di tempo dall'ordine ma perché abbiamo preferito insieme accordarci per aspettare un pochino viste le festività di natalizie ritardi e quant'altro ve li sto mostrando da vicino ragazze non fate caso alle mie mani sono veramente spettacolari tutti quanti non vedo l'ora di mettermi a creare e ad utilizzare questi cabochon per i prossimi per la prossima primavera guardate questi cioè che colori io che che faccio cabochon che mi diverto a fare cabochon ovviamente non sono a questi livelli chissà quando ci arriverò capisco il tempo che ci vuole per fare questi cabochon la precisione la quindi io la straconsiglio cabochon mania la trovate su facebook non vorrei fare una gaffa lei mi pare si la creativa si chiama milena scusami se non è quello il tuo nome milena perdonami io proprio c'ho la memoria fulminata male carinissima e dolcissima guardate questi è stata molto gentile mi ha inviato anche degli omaggi che dopo vi mostrerò ho deciso di prendere anche qualcuno con gli strass centrali perché non li avevo mai acquistati adesso vedremo cosa ne esce fuori ho variato un po con i colori per tenermi sempre sui soliti insomma colori ho presi un po per eccoli qui non mi ricordo più quali erano gli omaggi di sicuro una goccia che adesso vi mostro queste anche sono tra guardate quanti colori cioè già a vederlo dici non posso non abbinarle e creare qualcosa di bello e questi mi sa che erano gli omaggini io la goccia me la ricordo sicuro gli omaggini mi pare che l'omaggino l'altra coppia cioè mi ha regalato una coppia e non mi ricordo se erano questi guardate questa goccia cioè riuscite a vedere la bellezza non mi ricordo se l'omaggio era questo o era ora ora questi non lo so comunque in ogni caso sono stra belli ve lo consiglio questo sito non fate caso le mie mani sempre vestime ve lo straconsiglio e niente fatemi sapere se vi piacciono se avete suggerimenti nell'utilizzo sicuramente su touch incastonare con le perline non saprei non ci ho mai provato con questi con quelli che faccio io si con questi no potrei sempre provarci vi lascio con l'immagine dei miei preferiti sarà che io amo il verde questi sono a mio avviso stupendi già immagino l'immagine su degli orecchini al su touch estivissimi va bene baci i fanciulle fanciulli non so se c'è qualche maschietto che segue il mio canale e niente bye bye buon proseguimento i prossimi tutorial saranno un po così poi non sono tutorial i prossimi video saranno un po così vi mostrerò un po di cosine e poi penso tra una decina di giorni ricomincerò con qualche tutorial come vi avevo promesso ed ecco la carrellata di cabochon vi saluto come sempre buon proseguimento baci ciao